da tanto tempo che non andavo al mio paese quindi ho passato tanto tempo con i miei amici con la mia famiglia nel mio paese facendo un po di turismo diciamo per le mie premio per il mio paese e dopo si dopo sono andato con la mia ragazza i giorni lì alla grecia essere tranquilli alle spiagge quindi quindi si è andato bene stiamo gestendo la squadra stiamo provando a capirci tutti no provando a capire come come vuole il mister farci giocare vabbè iniziando e speriamo che sia un buon anno per per tutti noi per tutto lo specie calcio e adesso da poco che lavoriamo con lui ma ma certo che che mister che che prova di tenere la pala che prova di propone un bel gioco di provare di difendere con il pago con la palla e di fare alle altre squadre e soffrire noi e non farlo facile per loro di gestire di gestire il pallone quindi quindi sì poco a poco stiamo stiamo capendo come come ci vuole a tutti di giocare niente speriamo in queste prossime settimane migliorare ancora di più diciamo che che abbiamo lavorato tutti abbastanza questo stato siamo stati abbastanza professionisti in vacanze quindi quindi sì io mi sento bene ormai certo che magari qualche dolorino c'hai ma più per il fatto di aver stato un mese fermo non per non per essere niente niente particolare quindi si generale tutti stiamo stiamo abbastanza bene certamente che quest'anno quest'ultimo anno in serie è stato bellissimo ma ma tutti ci manca ci manca vedere un'altra volta lo stadio lo stadio pieno sentire la gente che che già si fa sentire abbastanza non se vai se vai in passeggiata per il per il centro della città già i tifosi di ti danno abbastanza di affetto ma ma certo che le partite si giocano molto meglio con quelli tifosi dietro da te e vediamo come andrà quest'anno e speriamo di fargli godere questa serie